Altra cosa, durante questo periodo, primo periodo di ricerca, dovete essere informissima, perché arrivare stanchi a bussare alle porte di questi posti dove vorreste ottenere più informazioni, un colloquio vi dicendo, è una cosa che non va bene. Nessuno vuole assumere una persona che si sente stanca, nessuno vuole assumere una persona che mostra fatica, cioè dovete arrivare lì freschi, sembrare riposatissimi, sembrare che sia la prima porta che state bussando quel giorno. E bisogna possibilmente, già in Italia, se uno non lo sta facendo, cercare di allenarsi fisicamente, perché può essere fisicamente impegnativo camminare molte ore al giorno, con magari la valigetta sul fianco che contiene il curriculum, quindi è importante tenersi davvero in fondo a forma, farsi vedere carichi energetici e questo aiuterà a fare una bella impressione. Quindi, semplicemente ricapitolando, non potrebbe essere più semplice, biglietto di andata e ritorno per la destinazione scelta, e possibilmente scegliete un posto dove sapete che le persone vanno e il lavoro c'è, se uno sceglie un posto sperduto non è detto che esista la cosa che sta cercando, o ci sia turnover di lavoro. Seconda cosa, una prenotazione che potete fare su Airbnb, ostelli, o bed and breakfast, hotel chiaramente non li consiglio, perché chiaramente il vostro scopo è poi rimanere la seconda volta, e il più possibile, quindi l'hotel chiaramente potrebbe andare a impattare di più i vostri risparmi, e da lì, appena arrivati, essere proattivi nel cercare di conoscere, incontrare persone, e vedere l'effetto che fa il curriculum una volta che è in inglese, una volta che ha l'indirizzo locale, che è un numero di telefono locale, e vedere se funziona, se funziona ci ne accorgeremo, o dopo qualche giorno, o dopo qualche settimana, e quindi avremo ottenuto il nostro obiettivo. Se non funzionasse, possiamo creare ovviamente diverse versioni, e poi pianificare di ritornare entro qualche settimana, entro qualche mese, senza farsi influenzare dagli altri, che magari ci vogliono dire, ah, vedi, non ci sei riuscito, vuoi dire, una settimana è un miracolo trovare lavoro, e i tempi in cui ci sono riuscito io, non ci sono riuscito per mia bravura, ma perché il mercato lo permetteva. Erano i tempi d'oro davvero dell'Irlanda, la prima volta nel 2006. Ho fatto la stessa cosa nel 2006, anzi, qualche anno prima a Glasgow, il mercato del lavoro di Glasgow, non è lo stesso, e quindi ci è voluto un pochino più tempo. Quindi, questa è la mia idea, fatemi sapere se questi consigli sono di valore, secondo voi, se hanno senso, se ci sono domande in merito, davvero fatemele, se posso rispondo direttamente qui, o se no vi rispondo in un altro video, in modo tale da mantenere il dialogo costruttivo sull'argomento. Bene, grazie di aver seguito fino adesso questo video, che è diventato piuttosto lunghetto, e vi auguro una buona serata. A presto, ciao!